Benvenuti, mi chiamo Aurora e in questo video vi guiderò attraverso i principali aspetti dall'apertura della partita IVA alla gestione. Che tu sia un professionista o un imprenditore, sai già quanto sia importante avere una partita IVA per gestire la tua attività in modo legale e professionale. Ma se sai ancora le prime armi riguardo questo argomento e sei incerto su cosa sia una partita IVA o su come funziona, allora sei nel posto giusto. Prima di proseguire, voglio consigliarvi Fiscozen. Si tratta di un servizio che può fare la differenza per coloro che hanno l'intenzione di avviare un'attività o per chi ha già una partita IVA. Puoi prenotare una consulenza gratuita attraverso il link che trovi in descrizione, ma guarda il video fino alla fine perché ti aspetta una bella sorpresa. Ora iniziamo. Molti di noi hanno un sogno, che sia diventare un imprenditore, lavorare per conto proprio come libero professionista e realizzare i propri obiettivi. Quando si tratta poi di affrontare la questione partita IVA, ecco che vedo incombere la paura ai mille dubbi legati a questo argomento. Il perché di ciò è semplicemente disinformazione, essendo un discorso che non viene affrontato da tutti. Ma anche la stessa paura legata alle esperienze negative di altre persone che ci tiene lontani dal fare questo passo. Una persona inesperta ma interessata all'argomento si mette alla ricerca di semplici informazioni che possano fare un quadro generico di come si apre una partita IVA, quali sono i costi di apertura o quante tasse si devono pagare una volta aperta. Ma ciò che si trova dopo questa ricerca sono articoli confusi, spesso contraddittori e che non rispondono alle nostre domande specifiche, e ve lo dico per esperienza personale. Inutile dire che dietro ciò c'è anche una gran perdita di tempo. A questo punto potreste dirmi, ma la soluzione è semplice, contatta un commercialista. In realtà non è così semplice come sembra, poiché trovare un commercialista che sia adatto al tuo settore o alla tua specifica attività richiede tanto tempo e impegno per non parlare dei costi. È importante quindi fare una ricerca accurata per individuare il professionista che possa fornirti le conoscenze e le competenze necessarie per gestire le tue questioni fiscali. Per fortuna, il servizio offerto da Fiscozen ti consente di accedere ad una prima consulenza del tutto gratuita da parte di esperti dedicati, e tutto ciò è completamente gratuito e senza alcun impegno. Questo servizio è disponibile sia se hai l'intenzione di aprire un'attività, sia se devi fare un cambiamento di gestione, e ti offre la possibilità di ottenere un supporto professionale sin dal primo momento. La puoi prenotare dal link in descrizione, ma una volta aperta questa partita IVA e avere acquisiti i primi clienti, quali sono i prossimi passi da fare? Beh, proprio in questo punto troviamo il passaggio cruciale per ogni attività, ovvero l'emissione delle fatture. È importante comprendere come fare una fattura in modo corretto, poiché questo documento rappresenta la base per il calcolo e per l'adempimento delle tue obbligazioni fiscali. Ecco alcuni motivi per cui la corretta emissione delle fatture è essenziale per la tua attività. Numero 1. Legge fiscale. In Italia la legge prevede che ogni transazione commerciale debba essere supportata da una fattura corretta e completa. Senza di essa non sarai in grado di dimostrare la tua attività commerciale e potresti incorrere in sanzioni fiscali. Numero 2. I pagamenti. Le fatture rappresentano un documento fondamentale per richiedere i pagamenti dei servizi o dei prodotti che hai fornito ai tuoi clienti. Senza di esse potresti avere delle difficoltà nel riscuotere i tuoi crediti. Numero 3. Tracciabilità. La fattura è un documento che ti consente di tracciare l'attività commerciale della tua impresa. Essa contiene tutte le informazioni relative alla transazione e ti aiuta a tenere traccia delle tue entrate e delle tue uscite. In sintesi, emettere fatture corrette e complete è fondamentale per la tua attività. Non solo ti aiuta a rispettare le normative fiscali, ma rappresenta anche un modo efficace per gestire i pagamenti. Tracciare la tua attività è aumentare la tua credibilità. Il servizio offerto da Fiscozen è davvero completo. Oltre ad assegnarti un commercialista dedicato, specializzato nella tua professione che puoi contattare quando vuoi via chat o telefonicamente, questo servizio ti offre anche la possibilità di monitorare le fatture inviate e quelle che ancora non sono state pagate. Sappiamo che spesso può essere frustrante inseguire i clienti per farsi pagare, ma Fiscozen ti assiste anche in questo aspetto. Con Fiscozen avrai a disposizione un servizio completo ed efficiente per la gestione delle tue attività imprenditoriali. Perfetto, abbiamo visto come fare e chi contattare per aprire partita IVA, come mettere le fatture una volta che si hanno i primi clienti, e adesso vediamo cosa fare quando l'attività è in crescita costante e sta avendo successo. Se prima abbiamo parlato del passaggio cruciale per ogni attività, adesso vediamo proprio dove c'è un abisso sconfinato di paure o preoccupazioni, ovvero il pagamento delle tasse e il versamento dei contributi. Il pagamento delle tasse e il versamento dei contributi sono senza dubbio tra le maggiori preoccupazioni per chi possiede una partita IVA. Gestire da soli questi aspetti può essere molto complesso e stressante, soprattutto per chi non ha una formazione specifica in materia fiscale. Ci sono infatti molte variabili da considerare, tra cui le scadenze per il pagamento delle imposte, la compilazione dei moduli F24 e la corretta dichiarazione dei redditi. Inoltre, le leggi fiscali sono in continuo cambiamento, e questo rende ancora più complicato il compito di gestire in autonomia la propria contabilità. Per evitare errori e sanzioni, è importante sapersi affidare a degli esperti come quelli di Fiscozen, che possiedono addirittura un comodo calcolatore in grado di aggiornarsi ogni volta che si fa una fattura, quando al momento il tuo commercialista personale ti dice quanto, come e dove pagare senza rischi ed errori. Per avere maggiori informazioni e dettagli a riguardo, vi lascio il link per la prenotazione di una consulenza gratuita nella descrizione di questo video. In sostanza, abbiamo compreso di non improvvisarsi esperti nella gestione fiscale della propria attività, e di affidarsi a professionisti del settore per ottenere informazioni e il supporto necessario. Il mondo fiscale è in continua evoluzione, e per questo motivo può risultare complesso se non si ha una conoscenza approfondita delle norme e delle procedure da seguire. L'errore più comune è proprio quello di affrontare tutto da soli, rischiando di incorrere così in problemi finanziari. Pertanto spero sia chiaro che il servizio di Fiscozen rende tutto più semplice e sotto controllo. Hai un commercialista dedicato, specializzato nella tua professione, sempre pronta ad aiutarti. Hai la possibilità di mettere le fatture elettroniche in modo semplice e veloce. In più, hai il calcolo delle tasse in tempo reale, con le notifiche dei pagamenti e il servizio di compilazione della dichiarazione dei redditi incluso. Vi ricordo che grazie a Fiscozen potrete richiedere una consulenza gratuita e senza impegno, così da giudicare voi stessi se il servizio risponde alle vostre richieste o ai vostri interessi. Sempre attraverso il link in descrizione potrai prenotare la tua consulenza gratuita. Inoltre ci sarà uno sconto di 50€ utilizzando il coupon sul primo anno di servizio nel caso in cui si decida di utilizzarlo o cliccando sul link che trovi in descrizione. In conclusione, Fiscozen rappresenta la soluzione ideale per la gestione affidabile e completa della propria partita IVA, grazie alla vasta gamma di servizi offerti e alla competenza dei professionisti che ne fanno parte. Non esitate di considerare l'opportunità di usufruire di questa consulenza gratuita, in grado di fornire risposte specifiche alle vostre domande e di supportarvi nel percorso di gestione fiscale della vostra attività. Voi avete un problema? Io vi ho sposto la soluzione. Quanto a noi, ci vediamo nel prossimo video!